che cosa facciamo adesso? aspettiamo Godot ah già è vero proprio due 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 battutine dai personaggi di Vladimir e de Stragone dell'opera aspettando Godot, opera celeberrima del teatro dell'assurdo che penso conoscano i più di voi penso tutti anche se non avete molta passione per il teatro teatro dell'assurdo aspettando Godot e in questa opera ci stanno questi due personaggi che per tutto il tempo aspettano, sto Godot aspettano, aspettano, aspettano e Godot alla fine non arriva mai ora, nelle teorie che sono state espresse dagli studiosi dagli appassionati, dai filosofi Godot può essere rappresentato come l'amore, può essere rappresentato come Dio Dio stesso che loro stanno aspettando l'intervento divino, può essere associato a motivi religiosi può essere tante cose e sotto sto punto di vista oggi ragionavo sul fatto di come anche noi tifosi della Lazio siamo un pochino Vladimiro Testragone, uno dei due personaggi principali dell'opera che aspettano in vano l'arrivo del famigerato Godot nel nostro caso Godot può essere tante cose anche quindi nel caso dei tifosi della Lazio può essere un'interpretazione molteplice, possiamo dire che Godot è un calciatore che verrà a dare manforte all'undici di Sarri possiamo dire che Godot è l'intervento finalmente incisivo della società per far crescere questa squadra e quindi aspettiamo Godot da circa 19 anni possiamo anche dire che Godot è la liberazione possiamo interpretare Godot come il nostro Godot bianco celeste altro non è che la liberazione dalla morsa lotitiana ecco perché io credo che ormai il 90-95% dei tifosi della Lazio desideri che Lotito abbandoni chi lo ha più in simpatia chi lo ha più in antipatia ma non dipende solo da quello dipende da questa maledetta o benedetta ambizione che noi abbiamo e che sembra non avere la nostra società sembra non avere il nostro presidente sono Adler ragazzi mi presento dopo due minuti e mezzo dall'inizio video ma volevo fare l'introduzione proprio con con questo spaccato teatrale con questa piccola citazione perché oggi proprio non lo so oggi stavo stavo poltrendo qui a casa mia e mi è venuto in mente proprio il fatto che noi i naziali stiamo sempre ad aspettare qualcosa aspettiamo che la situazione cambia aspettiamo che arrivi un Deus ex macchina che possa risolvere tutto quanto e portare la lascia a grandissimi livelli aspettiamo che lo dito molli ecco noi stiamo sempre in questa fase di attesa di attesa di attesa ieri sera aspettavamo io ieri sera personalmente sono andato a dormire non in orario piccolissimo ma insomma dopo l'una perché aspettavo la fine del vertice l'Otito Sarri per vedere un po' cosa sarebbe successo che cosa emerge dopo questo è chiaro che non è che mi aspettavo finisce il vertice e l'Otito esce da formello con oh abbiamo finito e nel frattempo ho comprato tre giocatori no però c'era anche questa forma di paura un po' di ansia di ecco ma questi finiscono e Sarri farfagotto e se ne va terrore perché io personalmente se dovesse andare via Sarri da laziale non potrei che dire che sono terrorizzato perché senza Sarri è finito tutto siamo rovinati personalmente lo vedo come la nostra unica speranza ultima speranza quindi in questa continua forma d'attesa l'attesa di di un giocatore che possa arrivare a formello più giocatori in realtà che possono arrivare a formello perché avrebbero dovuto già essere qua almeno un mese e un mese e mezzo un mese e mezzo fa diciamo un mese fa ecco comunque prima del ritiro però e ci ritroviamo alle porte di agosto col campionato che inizierà tra 19 e 18 giorni e una squadra indebolita rispetto all'anno scorso perché a parte l'innesto dei Castellanos e la perdita di Milinkovic stiamo ancora lì e l'attesa di un Ricci l'attesa di un Berardi l'attesa di uno Zinischi l'attesa di un chiunque che possa venire a rinforzare questa squadra oltretutto prendi dell'entusiasmo folli di entusiasmo dopo la stagione positiva vissuta lo scorso anno che secondo me è tra virgolette l'aggravante di tutta questa situazione perché ci si aspettava molto di più perché proprio paghi del fatto che la Lazio lo scorso anno veramente con Dunac che era in faciolo si è riuscita ad arrivare a seconda e incassi i soldi e prendi i soldi e le qualificazioni e la vendita del giocatore c'era anche l'aspettativa alta c'era il desiderio di vedere questa società finalmente fare qualcosa di più invece si è andati indietro e noi siamo qui ad aspettare ad aspettare ad aspettare che le cose cambino che qualcosa succeda però per chi conosce il testo per chi conosce la fine di aspettando Godot ahimè i due personaggi Vladimiro e Stragone i due complici di questa attesa resteranno per sempre in attesa perché lo spettacolo si interrompe che sto cavolo di Godot non arriva ora io l'ho già detto più volte io so sicuro che arriverà qualcuno tra i giocatori ma qui non si tratta soltanto del mercato e sono cose che ho detto abbiamo detto noi youtuber opinionisti su twitter su quello sulle radio è quello che diciamo tutti più o meno giornalmente non si tratta solo del giocatore che deve venire a rinforzare la squadra qui si tratta proprio di un sistema che è poco funzionale alla crescita e dà l'impressione magari non è così ma dà l'impressione che non si voglia crescere che non si voglia fare un passo in avanti dà l'impressione che diventare grandi spaventi perché io so sicuro che non sia facile perché tante volte alcuni la fanno più facile di quella che è la pongono più semplice di quella che è e intendiamoci nessuno di noi ha veramente idea di come funzioni un giro di compravendite soprattutto di giocatori a certi prezzi però qualcosa abbiamo recepito nel corso della nostra esperienza qualcosa sappiamo sappiamo che i rapporti per esempio con altri procuratori con altri presidenti giocano un ruolo fondamentale e qui sembra che non ce ne siano per fare uno dei tanti esempi ieri c'è stato il vertice a Formello un altro un vertice che avrebbe dovuto trovare luogo già un po' di tempo fa ce ne fu uno ad Aronzo di Cadore un paio di settimane fa e adesso ne facciamo un altro facciamo vertici su vertici diciamo cose ci incontriamo ma che c'è bisogna ancora dire cose servono i fatti serve la ciccia e noi questa ciccia non la vediamo continuiamo imperterriti imperterriti perché siamo innamorati perché la nostra la nostra motivazione alla fine che in realtà anche Godoe è la motivazione dell'attesa è la nostra Lazio alla fine l'amore che noi proviamo per la nostra Lazio quindi siamo lì ad aspettare nella speranza che la nostra amata diceva quello che si merita e purtroppo al momento continua a non succedere niente continua questa fase di stallo che sta diventando logorante e sta trasformando questa estate probabilmente in una delle peggiori se non la peggiore di questa gestione che tutti aspettiamo per tornare a usare questa parola faccia qualcosa tutti aspettiamo cambi quello che ci resta da fare ragazzi e lo dico con un po' di sconforto sperando che la nostra esperienza non finisca come quella dell'opera di Beckett è che qualcosa arrivi che prima o poi questo Godoe si presenti a noi qualunque questo sia detto questo ragazzi sono Adel 19.85 grazie di essere stati ad ascoltare questo piccolo sfogo perché di più non posso fare io preferirei fare un video ogni tre giorni ogni settimana ogni cinque giorni in cui vi dico oh pare che arrivi arriva arriva questo parliamo di questo giocatore bello mi piace no non mi piace è funzionale non è funzionale purtroppo il discorso è sempre questo a me pure mi pare tutte le settimane di sempre la stessa cosa ma è quello che purtroppo abbiamo da dire grazie di aver assistito al video ricordate che non è importante dove voi siate la cosa più importante è sempre e solo forza Lazio grazie